Cosa per noi? E che ne disse il conte? Gli si leggeva in fronte Il dispetto E la rabbia in mano Che meglio Ora ancora mi pagna Dov'è l'affrontamento Che tu gli proponesti? Giardino che sia mio aiuto Scrivi! Chi scriva? Ma signora E scrivi di me E tu gli operandi come stessa Canzonetta Solaria 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 Che suave Te ripeto Che suave E tu gli operandi E tu e le stai E tu e le stai E tu e le stai Sottimine, sottoglie, edo schienzo, sottimine, edo schienzo, edo resto gambeio, cento, cento, gambeio, cento, 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 cent Grazie a tutti. Grazie a tutti.